Tre seminari gratuiti per aspiranti autori di cinema e di televisione organizzati dall'Associazione Cento Autori in collaborazione col Comune di Napoli. Dal 16 al 18 dicembre i docenti Stefano Reali, Cristiano Gerbino e Giovanni Piperno formeranno 60 allievi sulle serie tv nel mercato internazionale, sulle nuove abitudini del pubblico cine televisivo, sulle tecniche del cinema documentario. In questo momento viviamo la condizione paradossale e felice in cui la richiesta supera la disponibilità di professionalità sul territorio. Continuiamo a dover importare da Roma o dalle altre città d'Italia maestranze, macchinisti, elettricisti, tutta un'altra serie di lavoratori specializzati che Napoli non ha avuto il tempo di formare. Quindi è il caso di cogliere questa sfida e di colmare questo divario con la formazione. Ai seminari saranno ammessi sceneggiatori e registi nati o residenti nella città metropolitana di Napoli che abbiano realizzato almeno un'opera audiovisiva di qualunque genere e formato, anche se non ancora distribuita o resa pubblica. Le domande vanno inviate entro il 12 dicembre all'indirizzo email ufficio.cinemachiocciolacomune.napoli.it. I seminari si svolgeranno a Palazzo Cavalcanti nella sala grande dell'Ufficio Cinema del Comune di Napoli. Il bando dell'iniziativa è disponibile su www.comune.napoli.it. Chi fa cinema sa che la città di Napoli ha una casa del cinema che è questa. Questi workshop rispondono ad un'esigenza che avvertiamo moltissimo in città, che è un'esigenza di formazione e di approfondimento da parte di tanti ragazzi e non soltanto ragazzi che lavorano nel mondo del cinema, che oramai è diventato un settore produttivo importante della nostra città, in questo senso bisogna lavorare per metterlo a sistema, e che però hanno una grande fame di sapere, di conoscere, di formarsi, di stare dentro dibattiti che riguardano soprattutto la contemporaneità delle produzioni audiovisive. I tre workshop vanno in questa direzione, sono tre workshop che affrontano temi particolarmente attuali, le serie tv, l'audience building, la costruzione di documentari in una fase complessa come questa, insomma sono tre workshop con tre nomi particolarmente importanti, le ali, i piperno, insomma sono veramente di qualità.